Abbiamo di tutto ne, che abbiamo già soltanto con la app, è spesso molto. Non so, faiciole, hai l'amore, non è. Hai l'amore, non è. Hello guys! I am going to a half door. I'm going to get one side of these. The first one is to get to get a big blue. I've got a big white orange one. It's a big one. Big orange one. I'm going to get two and three and two. Did you get a blue orange one? I have a blue orange one. I am going to get a blue orange one. I am going to get a blue orange. I am going to get blue. I am going to get blue orange. e ovo tu la mia un ucciso è un ucciso è un ucciso è un ucciso Melle Gopi Melle Gopi Melle Gopi Arrivederci Melle Gopi a a a a a a a a e la scuola è un pezzo un pezzo un pezzo un pezzo devo pieciare un pezzo un pezzo un pezzo non un pezzo cacqua cacqua Ara, a volte la scie un bel. No lo so, mi ricordo! Lo so, está giusto, voi vollanda! Nasi? Alzami. Non è un piatto. Il cuore. È un piatto? Oh, come on, come on, come on. ok, allora il vino benvene in questo il pendo è qui rimando poi dai un po' manda per voi non lo so, non lo so non lo so, non lo so 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 Ok, questo è giusto. Appure le mangiù sui. Inizia la mangiunga. Inizia la mangiunga. Inizia la mangiunga. Sugar! no 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 eh Sì Sì 3 giorni Salt! E' un po' di farlo. Salt è salto. Poi ci sono salto. E' un po' di farlo. E' un po' di farlo. Ok. E' un po' di farlo. E' un po' di farlo. C'è lei? D'annun. C'è lei? C'è lei? C'è lei? Rammatana, Anjali Arrìa Ruthu 5 marki Anjamat marek Ho pò Nona Anjali 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 No, no, no. a 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